Oggi sono più tranquillo, più sereno e come ripeto si manca sempre il rapporto di mia moglie. Oggi c'è giustizia e lui sicuramente sarà in carso. E' stata scritta nella tarda serata di ieri dalla Cassazione la parola fina di una lunga vicenda giudiziaria ma anche umana ovviamente per i familiari. La Corte Suprema ha infatti confermato la condanna a 25 anni di reclusione per padre Graziano per l'omicidio e la distruzione della cadavere di Guerrina Piscaia. La casalinga di Caraffello in provincia di Arezzo scomparsa misteriosamente nel nulla il 1 maggio 2014. Il religioso congolese e la donna avrebbero avuto una relazione sentimentale. Finalmente oggi la Corte di Cassazione ha accertato senza nessun tipo di dubbio che è stata uccisa da Labi. Gli indizi contro Labi sono tanti. Ci sono alcune cose che sono insormontabili come il telefono, come le scelle telefoniche, come le stesse dichiarazioni. Perché credo che un grande contributo sia stato dato dallo stesso Labi rendendo interrogatorio e inventando figure fantasmagoriche come zio Francesco. Il frate, grande assente della giornata di ieri, tramite i suoi legali si è detto provato, ha definito ingiusta la sentenza ma ha anche aggiunto che affronterà serenamente quello che lo spetta, sicuro della fede e della sua innocenza. I legali adesso potrebbero rivolgersi anche alla Corte Europea perché sarebbero stati lesi i diritti dell'imputato. Ma intanto per il religioso si sono aperte le porte del carcere romano di Re Bibbia. Padre Graziano nel maggio 2014 prestava servizio nella parrocchia di Caraffello. Secondo i giudici d'appello avrebbe strangolato la casalinga in un momento di rabbia per paura di uno scandalo. Cosa vi aspettate adesso dalla curia retina? Probabilmente un segnale o quantomeno un contatto alla famiglia che è una famiglia credente. Ancora ad oggi a cinque anni di distanza dalla scomparsa il corpo di Guarina Piscaglia non è stato ritrovato. Cosa vorresti dire a Padre Graziano? Che dica la verità dove è che l'abbiamo messo. Oggi non l'ha detta questa verità? Oggi ancora no però speriamo che andando avanti la dica.